Via Torino, 75 anni, accusa un malore, si accascia a terra e muore. Un seracusano di 75 anni ha perso la vita stamane alle 9 circa a causa di un arresto cardiaco. L'uomo è stato stancato da un malore improvviso nei pressi di un bar in Via Torino, si è accasciato a terra in prossimità del marciapiede e ha perso conoscenza. A quanto pare da una prima ricostruzione dei carabinieri l'uomo sarebbe uscito dal bar e avrebbe avvertito un improvviso malore, i presenti hanno subito richiamato il 118 che ha inviato sul posto l'ambulanza, i sanitari hanno utilizzato più volte il defibrillatore per rianimarlo, poi lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso, i militari dell'arma avrebbero provveduto a rintracciare i parenti dell'uomo.